Il disegno di legge 15, che prevede un divieto temporaneo fino a 18 mesi all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, potrebbe ricevere il via libera dal Consiglio regionale martedì prossimo. I circa 170 emendamenti, dei quali una settantina soppressivi presentati ieri dalle opposizioni, hanno rallentato inevitabilmente i lavori dell'Aula. La discussione del provvedimento è iniziata di mattina, poi dopo una pausa all'ora di pranzo c'è stata la riconvocazione in seduta a congiunta delle commissioni quarta del Governo del territorio e quinta delle attività produttive. Al termine è proseguita poi tra i banchi del Consiglio regionale. Approvato per appello nominale con 33 voti a favore e 15 astenuti l'articolo 1 del DDL. Dopo alcuni tentativi di ostruzionismo da parte delle minoranze, il Presidente dell'Aula, Piero Comandini, ha convocato una conferenza dei capi gruppo dove è stato raggiunto un accordo. L'opposizione ha infatti deciso di ritirare tutti gli emendamenti soppressivi e sostitutivi parziali. Salvo imprevisti, il cosiddetto Salva Sardegna dovrebbe essere approvato già nella seduta di martedì.